Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Quest'oggi, visto il successo riscosso l'altra volta col video del fate un regalo per Natale da 0 a 20 euro, abbiamo pensato di fare qualcosa in più. Quindi se avete una persona alla quale dovete regalare un qualcosa di un po' più particolare, pensavamo di fare un regalo fino ai 50 euro questa volta, ci spingiamo un po' più in là. Gadget tecnologici o che comunque vanno a interagire con la nostra assistente domotica fino ad arrivare ai 50 euro, quindi dai 20 ai 50 euro. Ma prima di tutto questo, Marco, io inviterei i loro signori ad iscriversi al canale e attivare la campanella, in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi taricheremo un nuovo video. E mentre vi guardate la sigla, mettete anche un bel mi piace. Bravo, e allora vai di Sigla! Come primo oggetto da poter regalare, abbiamo una chiavetta USB da 64 giga, quindi una buona capienza, ad un prezzo di 34,99 euro. Questo cosa fa? Vi dà la possibilità di poter connettere questa chiavetta direttamente al vostro dispositivo, che può essere il cellulare, il tablet, il vostro computer, che sia Android o che sia iOS non interessa, perché è compatibile con qualsiasi tipo di prodotto. Scaricate un'applicazione che è della Lofi, dopodiché tramite questa applicazione andate semplicemente a attingere a tutte le informazioni, quindi foto, video o documenti che avete nel vostro dispositivo, li portate all'interno di una chiavetta USB, dopodiché staccate la chiavetta dal vostro dispositivo e la inserite nel computer. Il gioco è fatto. Passiamo adesso ad un prodotto che secondo me, soprattutto in questo periodo di smart working, può essere molto utile. Stiamo parlando di occhiali che filtrano al 100% la luce blu dei vostri monitor. Regalo perfetto per coloro che in questo periodo lavorano da casa, o anche magari per i vostri figli che fanno la didattica a distanza. Questo sicuramente darà a loro la possibilità di potersi proteggere dai raggi blu del monitor. Vanno bene anche per essere utilizzati al di fuori di casa perché hanno una protezione anche UV. Altro regalo molto utile è il mini portafoglio con protezione RFID, che è quella tecnologia che riesce a schermare le vostre carte ed evita che malintenzionati si avvicinino con dei dispositivi e riescano a prelevare senza toccarvi il portafogli, solamente con questo macchinetta che hanno loro, riescano a prelevarvi delle cifre dal bancomat. Il prodotto in questione lo potete trovare su Amazon attualmente ad un prezzo di 34,90€. Sempre rimanendo nell'ambito della didattica a distanza o il lavoro smart working, vi proponiamo un supporto per monitor e PC pieghevole che vi dà la possibilità di sollevare e in più ha tutta una serie di cassettini nei quali potete riporre il cellulare piuttosto che altri accessorici. Altro accessorio molto utile, caricatore wireless 3 in 1. Potete comodamente ricaricare sia il vostro cellulare, sia l'orologio, sia le vostre cuffie. Il tutto semplicemente utilizzando questo supporto comodo ed elegante. Questa volta ci spostiamo invece sulla parte domotica. Quindi vi proponiamo una presa da esterno con due prese sciuco per poter collegare, ad esempio in questo periodo, le luci da esterno per Natale senza dover uscire ogni volta. Basterà dare il comando al vostro dispositivo domotico il quale penserà lui poi ad accendere le luci esterne. O se magari avete un giardino e avete la necessità a determinate ore di accendere delle lampade esterne potete sempre collegare questi accessori alle prese di corrente sciuco e dargli una routine da dover seguire. Naturalmente parlando poi di una presa esterna è ovvio pensare che sia waterproof, cosa che comunque viene riportata nelle varie caratteristiche. Per poterla controllare utilizza la app della Meros la quale poi è perfettamente compatibile con tutti i dispositivi domotici di casa. Nel video precedente parecchi di voi ci avevano fatto notare che mancava un sonoff piccolino che potesse essere inserito nelle prese 503 delle proprie abitazioni. Beh, questa volta l'abbiamo trovato e ve lo proponiamo. Ad un prezzo di 21,99€ vi arriveranno due sonoff mini da poter inserire all'interno dell'interruttore piuttosto che utilizzarli per altri scopi. Anche questi completamente compatibili con tutti i nostri dispositivi domotici di casa. Altro oggetto che è veramente bello da poter avere a casa per rendere l'ambiente un po' più armonioso è il diffusore di aromi ma non solo ha anche la possibilità di sguicciare su milioni di colori che possono essere non solo accesi o spenti ma anche dimmerabili. Questo prodotto naturalmente è compatibile con tutti i nostri dispositivi di domotica di casa. Questo prodotto non è di domotica è disponibile in vari colori adesso noi vi presentiamo quello in colorazione oro ad un prezzo di 49€ in offerta costava 60€ come potete vedere e si tratta di uno spioncino digitale che si inserisce direttamente nella porta di casa vostra che sia normale o blindata non c'è nessun problema. Avete la possibilità tramite la pressione di un tasto di andare a vedere chi si trova fuori casa vostra senza che lui se ne accorga. E adesso, ultimo oggetto ma non per importanza se avete un comodino con una classica lampada per poter leggere la sera noi vi presentiamo una lampada da comodino touch intelligente wifi compatibile con tutti i dispositivi di domotica quindi ricapitolando avete 10 possibilità fino ad arrivare ai 50€ per poter fare dei regali che secondo noi chi è appassionato di tecnologia può apprezzare profondamente. Esatto sottolineiamo che i prezzi che trovate in questo momento potrebbero essere diversi da quelli di quando guarderete il video magari per delle scontistiche delle promozioni comunque ad oggi sono quelli che vi andiamo a dire per cui se appena vedete il video andate subito a cliccare molto probabilmente lo troverete a quel prezzo quindi per ricollegarci a quello che ha appena detto Marco qui sotto trovate sempre i link in descrizione per potervi connettere direttamente ad Amazon io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo ciao ciao ciao